Marine Le Pen, leader del Front National, intervistata da Repubblica, ha dichiarato che in molti sapevano di questa debolezza di Dominique Strauss-Kahn. La definisce una patologia sessuale simile a quella di Silvio Berlusconi. La Le Pen, si dichiara sconcertata su come Sarkozy lo abbia potuto candidare all'FMI, rovinando la reputazione della Francia. Inoltre ritiene che le ipotesi di complotto, come dichiarato da Le Monde, siano delle sciocchezze e si aspetta immediate dimissioni dal ruolo direttivo del Fondo Monetario Internazionale.